Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria si registrano due chilometri di coda tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma, sempre in direzione Roma ma per traffico intenso code tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud e a Firenze Sud in uscita. Code per traffico intenso anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze a Sesto Fiorentino in uscita provenendo da Firenze. In A12 invece code per lavori tra il raccordo Luca Viareggio e Versilia in direzione Genova. Code per lavori anche in Fipi Litra, Ginestra Fiorentina e La Strassigna con 3 chilometri in direzione Firenze e 1 chilometro in direzione Livorno. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!